Un nuovo appuntamento con l'intervista doppia tra il filosofo perform Cesare Catà e il giovane favoroso Giacomo Leopardi. Che cos'è per te l'amore? È una domanda complessa, da sempre filosofi e letterati cercano di darvi una risposta. L'amore è comprendere nell'altro quello che ti manca. Una sveltina, ti rimetto a posto. Come mai il pubblico ti ama? Perché sono morto. Non è mai facile comprendere l'apprezzamento del pubblico che però quando si è in teatro con la sua energia riesce a vibrare e a trasmetterti molte cose. È una cosa che ad esempio ho preso soprattutto nel teatro di Shakespeare, cioè quando si crea un rapporto di correlazione tra il pubblico e l'attore. Dunque Shakespeare in questo è il grande maestro dell'amore per la cultura. Ecco Catà, facciamo così, perché non ti metti a parlare Shakespeare e a me me lasci perdere? Invece di stare a parlare di Giacomo Leopardi? Che mi stai sempre a pensare a parlare a te e mi fischia le rechie. E mi fischia le rechie a me quando mi fischia le rechie vado fuori di testa. Ma voi pensate a Shakespeare? E non mi stai a rompere i coglioni a me? Dai! Ma pensa a Shakespeare, no? Io penso a Silvio, io non penso ai cazzi suoi. La gente non si fa i cazzi suoi proprio, guarda. Cosa diresti a Giacomo Leopardi? Grazie anzitutto per quello che hai scritto e per il coraggio che hai avuto nel rifiutare tutto quello che ti era stato insegnato per utilizzare solo l'intelligenza umana contro l'assurdità del cosmo. Quindi grazie. Cosa diresti a Cesare Catà? Allora Cesare Catà, a prima vista ti direi perché non vai allo psicologo? Ma lascia perdere a parlare degli poeti, degli scrittori, degli filosofi. Lascia perdere. Vate a fare una partita a calcetto con gli amici giù la spiaggia. Vate a divertire. Vate a sudare. Vai a Spurgampo. Vai a fare un po' di sesso, anche a pagamento. Vate a parlare degli poeti, ma con i poeti non sei magna. Catà, ma che te lo devo? Dio, non sei magna. Brucia un po' di libri che c'è la casa, almeno fai spazio per metterci una bella televisione a 56 pollici. Te vedi qualche porno, qualche film sexy della commedia italiana, che ne so, Tinicanzino e Duisferic che mi rapa come una bestia. me, Duisferic, fai qualcosa di divertente su e lasciami perdere, lasciami perdere.